Salve, sono Max Vienna e questo è Marco Aurelio, un nuovo canale YouTube per parlare di Lazio, di calcio e non solo, sempre con un appizzico di ironia e soprattutto una punta d'inchiesta. Indagare fa sempre bene perché aiuta a controllare ciò che ci circonda. Detto questo, vi invito, se lo desiderate, ad iscrivervi, è completamente gratuito, così non perderete i prossimi video. Se vi fa piacere, potete anche azionare la campanella che vi segnalerà tutti i video che verranno trasmessi. Detto questo, arrivederci e ai prossimi video!